Giorni caldi in Abruzzo e specialmente a Lanciano dove all'improvviso proprio nel pieno del malumore relativo alla sconfitta pesantissima di Padova arriva la fondata indiscrezione di un'imminente cessione societaria. I Maio infatti hanno deciso di interrompere il progetto rossonero dopo due anni in vie una gestione che ha regalato tante soddisfazioni alla tifoseria ma che ha trovato intoppi inaspettati compreso il progetto relativo allo stadio che stenta a decollare e il procuratore Donato di Campli che ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sul sito Arabian Telegraph svelando l'interessamento del magnate Al-Kelayfi il proprietario del Paris Saint Germain nei confronti del club virtussino. Lo sceicco punta infatti a creare una società satellite in Italia per valorizzare l'enorme numero di giocatori contrattualizzati in Francia e puntare in una piazza sana al salto di categoria seguendo il modello Chievo. Guglielmo Maio si è incontrato ieri mattina in Albania a Tirana dunque a mezza strada proprio con Al-Kelayfi e la trattativa sembra ormai conclusa. Ai Maio spetteranno 7 milioni di euro e un termo valorizzatore a Singapore. Pare che i commenti spesso piccanti sui social network da parte della tifoseria dopo la debacle di Padova abbiano ulteriormente contribuito alla decisione finale. Tredunion della trattativa proprio donato di Campli lancianese spinto anche da Verratti centrocampista del Paris Saint Germain che dovrebbe diventare il testimonial del nuovo club puntando successivamente allo sviluppo del turismo religioso unendo il volto santo di Manoppello al santuario del miracolo eucaristico nella via della fede. E bocche cucite nella consuetudine della conferenza stampa in programma oggi pomeriggio non risponde donato di Campli che si è trincerato dietro il più classico dei no comment mentre per quanto riguarda Guglielmo Maio lui è di ritorno proprio dall'Albania ha preso il detto a Valona quindi sbarcherà a Brindisi nel pieno del mare Adriatico il suo cellulare non a campo.